Chi mi ha fatto voglia di scrivere? Ho già scritto. Chi è scritto? Ho già diventato un scrittore. Ho deciso che voglio essere come voi, parlare come voi, pensare come voi. Ho appena incontrato un cucciolo d'aquila che vuole salire in un nido di civette. Gli operai napoletani hanno dimostrato che devono essere più schiavi dei capitalisti. Bisogna continuare lo sciopero! Guadagnati la vita in un altro modo. Imbarcati. Vai fra la gente. Gira il mondo, Martin. Fare lo scrittore è ridicolo per uno che ha imparato da poco a leggere. E tua figlia è stupida che gli corre via. Noi potremmo essere felici insieme. Noi invece lo saremmo, Martin. Amore Elena, amore Elena. Tu vivi in una favola, Martin. La principessa e il marinaio. Ora ti chiedo di darmi due anni di tempo per misurare il mio talento. E' il giorno in cui ci riuscirò, cara Elena. Ti giuro che tu sarai mia e che lo sarai per sempre. E gli individui? Che ruolo hanno gli individui nella società per cui lottare? Lo scrittore Martin Eden non esiste. Quello che avete davanti è un malandrino, un marinario. Io non sono un mito. In questa città ci saranno cinque o sei individualisti e tra questi c'è Martin Eden. Io non sono un mito. Il giorno in cui ci riuscirò. E allora si offrira le persone, la mia e che fa qualche tempo. Da.